... Battaglioni, attenere! Rappo il tuo foto! Questa sera abbiamo una grande festa qui a Bitondo, la casa armonica accesa, la musica che è in cuore di tutti voi, c'è l'anegria! Beate chi vuole bene la musica, deve cambiare fin da, e qualche altro giorno in più, e se la vuole bene, 5 e 50 e 50, e tornerà di buon indietro! Ecco la foto con me! Battaglioni! Festival! Festival! Battaglioni! Battaglioni! Sommigrings! Saufami! Bettagini! Voi spessore della Gesellk Buon indietro! Tantange! Voi spessore di Brun? B wildly spessore matrice! Voi spessore va... Asteriè! Riposa! Ricordiamo a tutti voi le bocce di piripicchio e per togliere i malocchi da dosso, per cui le maledze hai il tuo assenso. Allora dandone le bocce, schiacci ma l'occhio e porti serenità, felice e grande giorno. Beate qui di buon sorriso, il sorriso fa bene la salute e ci ben bacio la sua formazione. Mh! Battaglioni, dandone la bocce al capitano. C'è un'aerea! Scusi, aerea! Sassemi deve andare da piccando! Deve andare a sparare! Le bomba a Modugno! 12 e mezzo! E questo lo sceglie! Da questa parte ho il manicomio! Da questa parte ricomero! Da questa parte una bocce a tutto taglia la sacchia! Taglia la bocce al capitano! Aerea! Aerea! Artificieri! Bombardieri! Stai arrivando l'aerea! Distragliate! Fuoco! Non vuoto con bello! C'è l'aerea! Distragliate il fotografo! Fuoco! Bomba! Fuoco! Non vuoto con bello! C'è l'aerea! Distragliate il fotografo! Lo rovi con la testa! La testa è rimasto! Bomba! Fuoco! Un po' di mare! Un po' di mare! Un po' di mare! Un po' di mare! una laticianto BOMBÉ BOMBÉ stasera tutti in grande festa Ecco a Roma Scopo BOMBÉ Le abonné La Slime Le abonné Ma Le abonné Le abonné Grazie a tutti. 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 Maestro... Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... la persona... ... maestro... noi vogliamo... giusto? ... la città... agli giovani... queste... la città... di... 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 la città... la città... la città... si dire... la città... la città... la città... la città... e... la città... speciale... la città... la città... la città... la città... la città... ... ... Buonasera... Buonasera... ...di voi che ci avete ascoltato... ...perchè stasera... ...è stata una cosa... ...veramente bella... ...a girare... ...el centrostol di Bitondo... ...dove... abbiamo fatto rivivere la nostra musica tradizionale purtroppo la gente può dire ma Piripiccio ma noi abbiamo preso il nome Piripiccio per non dimenticare la storia perché la storia rimarrà sempre scolpita nel nostro cuore e noi la facciamo col cuore questa cosa perché sappiamo che la gente si ricorda specialmente chi ha l'età più o meno l'età dei 60 anni perché noi avevamo il nostro gruppo si chiamava Luciano Abando alla morte di Piripiccio abbiamo ripreso questo nome per non dimenticare ma la gente può dire ma sai quel Piripiccio così non è che possiamo essere tutti uguali nella vita c'è purtroppo chi la conta un modo, chi la conta l'altro però voglio dire con il nome di Piripiccio abbiamo preso due medali d'oro abbiamo preso un premio internazionale che ci ha dato tanta tanta gioia avere un premio internazionale poi abbiamo come dire delle feste tantissime da tutte le parti d'Italia all'estero siamo stati lì sera a un grande spettacolo qui a Brindisi è stata una cosa eccezionale ho fatto uno spettacolo con Madonna poi sono stato a Bari con Dojo Gabano poi abbiamo fatto tante feste e abbiamo ci hanno riconosciuto questo uomo Piripiccio artiste di strada che portiamo serenità e portiamo gioia per tutto il paese per tutte le piazze e specialmente quelle persone che non fanno mai una risata quelle persone che non escono quelle persone che non possono venire in piazza girando per le strade portano armonia e grande gioia questa è la cosa più bella allora vogliamo dire grazie a tutti voi grazie a questa associazione che ha voluto fare questa festa io ringrazio tutti voi per essere intervenuti ringrazio Vito il nostro caro amico Vito Guerra che veramente porta sempre allegria da dovunque lui si presenti c'è sempre un sorriso sulle labbra di chi lo ascolta siamo alla quinta edizione di questo festival e siamo orgogliosi di essere ricompresi nel programma Bitonto Città dei Festival è la quinta edizione e con la speranza ci riproponiamo di farne tante altre sempre meglio io devo ringraziare in modo particolare lo staff dell'Associazione delle Cese perché dall'anima non ha orari non ha feste non ha niente lavora continuamente per progetti ambiziosi come questo come altri che abbiamo fatto e come altri che faremo e li ringrazio tutti non li nomino perché potrei anche dimenticare qualcuno sono tanti ma li ringrazio nella persona del più anziano del gruppo dello staff Nicola Primo che è più giovane di me è anziano per modo di dire perché ha le batterie Duracell di un ventenne è instancabile ed è insostituibile ringrazio lui a nome suo ringrazio tutto lo staff ringrazio voi di nuovo buon ascolto buona serata e buon divertimento per questi giorni che verranno grazie Vito allora ora mi ha letto 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 ancora un fortissimo applauso